Sono veramente contenta di trattare con voi questo argomento! Allora Ma sì, certo, studia solo questo, ma stai tranquilla Grazie, prof Martina, cara, scusa, mi chiudi la finestra Eh, quale, prof? L'unica che c'è aperta, cazzo, Martina, svegliati Questa parte è bellissima, è un sacco emozionante il fatto Prof, posso andare in bagno, per favore? Vai, muoviti, vai, guarda È bellissimo, ragazzi Negli anni trenta, il dia... Non ce la faccio più! Anche come in... Dai, dai Ingrati, silenzio Mi state facendo perdere la pazienza? Ma la macchinetta del piano alla fine l'hanno riparata perché si era rotta Perché Corrado Grassi scrisse Siediti, dai Siediti! Aagascarata del piano alla fine l'hanno riparata perché si era rotta che si era rotta che si era rotta che se rilano. Sì, sì, sì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti